Domani dove andare? Come dicevi che vorrei andare da moglie? Molte ore. E ora? Vi chiamo alle 10, Massimo? Sì. Dormire presto, eh? Dormire presto. Alle 10 vi chiamo, le mezzo alle 8 e devo fare lavatrici sul tempo, faccio barba, faccio doccia, prima, no? Faccio doccia. Ecco qua, senti l'orologio. Sì, qua qua è, in città città, il paesetto è qua, il paese, piccolo paese. Il paese di lavorare, faccio, funziona, eh? Funciona, eh? 830 questo. C'è lui con nevole, sì? Non, non. C'è, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. C'è. C'è, c'è, c'è. C'è. C'è, 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 c'è. C'è, c'è. . 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 Grazie a tutti!